M. Panigari, una vittoria con l'Ara Calcio, diciamo che alla fine del campionato si avvicina, la Bielese ha vinto 4-1 con Livrea, distanze invariate, però una partita in meno a disputare. Sì, oggi è stata una vera battaglia, è la prima partita dell'anno dove abbiamo fatto un po' più fatica a vincere, infatti 2-1 il risultato ci sta un po' stretto, abbiamo avuto qualche occasione, loro hanno colpito una traversa, il risultato direi giusto, nulla da dire, però la Bielese è ancora lì a 8 punti, oggi ha fatto il risultato pieno direi anche in maniera buona a Ivrea e quindi dobbiamo continuare su questa strada. Peccato oggi un po' la nostra poca lucidità sottoporta ci ha penalizzato, abbiamo fatto fatica fino al novantesimo.